ciao a tutti benvenuti ragazzi su Enea faster tv oggi sperimentiamo i pattini a rotelle eccoli qua abbiamo preso i pattini di Enea nuovi nuovi già bisogna imparare e questi invece sono i miei che ce li avevo da tanto tempo esatto sono proprio così ok adesso dai ma tu ti devi mettere da solo fammi vedere questo dobbiamo toglierlo e dopo lo togliamo vabbè lasciamolo e lasciamo così se si rompe qualcosa dai tira tira 1 1 vedi le ruote sono fatte apposta per facilitare facilitare l'andamento diciamo sui pattini dai via la scarpetta attenzione dentro vai giù giù c'è il tirino ok adesso aspetta che adesso li mettiamo bene allora ci siamo messi i pattini me li sono messi anche io è oddio mamma mia ragazzi allora io ti dico che saranno sette o otto anni che non mettevo più il rollerblade adesso tu puoi stare in piedi e non cadere stare fermo eh no dobbiamo muoverci dai andiamo andiamo sulla pista eccola qua la pista guarda dai è molto bella eh allora eh allora eh eh è che gli ormai che lo peggio eh lo peggio eh eh per volare ha certo dai andiamo andiamo ehi perchè lui pensava che i pacchi che volavano basta parlare lo so andiamo di qua dai gira ah eh Rischio di cadere Ci sei? Ti serve ancora una mano? Andiamo Ma adesso Facciamo scavarchiamo Oh madonna Oh qua è liscio Oddio Scivola di brutto Mamma mia Dai È un po' in discesa Bravo Grande Guarda qua Guarda qua Guarda qua babbino Ridi Ridi Dai Allora Io sento che Mi piacerà questa giornata Dove vai? Aspetta vuoi una mano? Aspetta Vieni qua Dammi una mano a me Attenzione E alzati in piedi Ok Adesso Allora intanto attaccati dai E cerca di camminare Ok? Perché io vedi Io guarda Io mi ricordo com'era Vedi? Oh madonna Solo che Ok Eh Perfetto Ok tu comincia così papà E cerca di capire Come funzionano Capito? Sai cosa? Innanzitutto papà Devi capire una cosa Dammi la mano Dammi la mano No guarda Allora innanzitutto Devi stare Con Le gambe un po' piegate Allora Capito? Così Adesso non si vede tanto Però Non con le gambe dritte E il busto dietro Perché se no Rischi di cadere In avanti Come se fai la cacca Capito? Ok Meglio? Come va? Tieni le gambe piegate E il busto in avanti Cerca di metterti Così Così Capito? Piega le gambe Piega le gambe papà Piega le gambe No Questo è allargare le gambe Devi piegarle così Capito? Piega Ok? E muoviti così Capito? Vai Ok Però vedi Se tu ti tieni Perché? Se tu ti tieni I piedi vanno in avanti E dove ti aggrappi Ti ancoli Capito? Cosa c'è? Eh? Allora Noi abbiamo fatto un giretto Giusto per capire un po' Come andare sui pattini Enea Ti piace questo spot? Non sai andare sui pattini Enea dobbiamo imparare papà Su questa pista? Vuoi andare sull'erba? Dove vuoi andare? Dove sei Eh? Allora devi andare qua Capito? Capito Cosa? Ma guarda che sui pattini si va sulle piste così Papino Sono fatti apposta Anche dove ci sono le piste per le bici No? Ci puoi andare tu con i pattini Però vai veloce lo stesso Lo sai? Allora che facciamo? Ci fermiamo qua? Veniamo un'altra volta Enea Si è ritirato Ha tolto i pattini E adesso sta facendo la pista di corsa Per cui Volevamo fare un bel video Ma Sarà un video Corto Molto corto Attenzione Guardatelo Enea Coppolino Guarda Dove vai? Opla Gramante Ammazza Cosa di Spiderman Eccolo che arriva Eccolo che arriva Eccolo che arriva Ehi Ti è piaciuto farlo di corsa? Sì E' meglio vero? Allora Allora amici E' stato un video un po' cortino Perché pensavamo di starci di più sui pattini Però questa è una delle tante avventure di Enea Fast TV E Alex Ehi Dove vai? Ecco E riparte Riparte con la sua corsa Dai Guardiamo Ecco Cacca addosso La cosa che gli piace di più a Enea Ok E voilà Va bene amici Allora se vi è piaciuto questo video Lasciate un like Ovviamente E se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi al canale Per non perdervi Nessuna delle tantissime avventure di Enea Ciao ragazzi Attenzione Salto incredibile E posa di Spider-Man Dei supereroi Bravo Abbiamo fatto così Così è quello che si chiude Ah Bravissimo E insomma Allora che facciamo? Andiamo a casa? Andiamo in bici? Eh? Adesso il divertimento di Enea E' saltare a ripetizione Da qua Cosa c'è? Insomma È un gratino Vero? Bravo Bravo Bravo